Una bomba d'acqua? Una bomba d'acqua, sì, direi proprio di sì. Alcuni dicevano che non vedevano neanche le case da quanto era affitta la pioggia. Una nuova ondata di maltempo, un violento nubifragio, infatti questo pomeriggio si è abbattuto in Valdarno. Acqua, forte vento e pioggia hanno creato numerosi disagi a Montevarchi, soprattutto per quanto riguarda i sottopassi. Quello di piazza Garibaldi, che collega il centro della città con il quartiere di Pestello, si è allagato e è stato temporaneamente chiuso. Chiuso anche il sottopasso per l'ospedale di Santa Maria la Gruccia, dove un'auto è rimasta bloccata e quello della stazione ferroviaria, con inevitabili ripercussioni sul traffico ferroviario, disagi e d'allagamenti sempre a Montevarchi e anche nella centralissima via Roma. Lui avevamo la mostra museo delle Memorie Rosso-Blu, un'associazione che si è costituita a gennaio e meno male mi sono trovato per caso qui. E' entrata tutta l'acqua, si è ripristinata un po' ora. Quanta acqua è entrata? Tutto il locale, tutto pieno, un centimetro, ma insomma era tutto un pari la via Roma da qua fino a dentro. Il forte vento ha inoltre abbattuto alcuni gazebo allestiti per la rievocazione storica e il gioco del pozzo in piazza Vittorio Veneto. E' piovuto e quindi c'è il vento, ha rotto un po' di gazebo e le fognature non ce l'hanno fatta, quindi l'acqua si è un po' alzata. Alcuni negozianti hanno avuto l'acqua dentro i negozi, per adesso però sembra tutto passato. Al lavoro, protezione civile e vigili del fuoco.